chi è una storia che storia una storia che ancora non conosci che genere di storia una storia che finisce bene no tutto qui no all'inizio c'è un mistero ai protagonisti sembra andare tutto male succedono cose e solo poi finisce bene e i suoni ce li hai certo che ti credi me ne fai sentire qualcuno va bene sì ma non mi dire tuttora poi mi racconti dall'inizio entra benvenuto in storie che abitano qui ti troverai bene ci sono storie di tutti i tipi stai lontano dalle storie di paura abitano tutti insieme quando ti avvicini cercano sempre di spaventarti storie che abitano qui racconti sonori per bambine e bambini di tutte le età